Eurallumina più vicina alla proroga della cassa integrazione straordinaria, passo in avanti per la proroga anche per tutto il 2019 a favore dei 260 lavoratori in organico. Siglato il preaccordo sul piano di gestione delle risorse umane, il 28 appuntamento a Roma per gli ammortizzatori sociali. Quale sviluppo per il sulcisi iglesiente? Ne parla nel Tg il giovane sindaco di Iglesias, Mauro Usai. Non esiste un solo tipo di sviluppo, esiste lo sviluppo che deve vedere convivere tutti i settori, dall'industria al turismo all'agroalimentare. Salvini in Sardegna, tappe da Olbia a Cagliari con l'hashtag tra la gente. Il ministro dell'interno si prepara alla due giorni sarda e risponde fate pena ai suoi detrattori che in questi giorni hanno imbrattato il muro del centro culturale Exma a Cagliari con diversi insulti. Salvini, razzista Bairindi. Iglesias, attivato il nuovo sistema di video sorveglianza, più controllo delle zone critiche in termini di viabilità e tutela del patrimonio urbano. 54 nuove telecamere ed ulteriori 28 telecamere già presenti andranno ad interfacciarsi sul nuovo sistema. Buon giovedì 22 novembre 2018 a tutti i telespettatori ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il TG40. Passo in avanti per la proroga anche per tutto il 2019 della Cassa Integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale a favore dei 260 lavoratori in organico all'Euralumina di Portovesme nel Suicis. È stato infatti siglato il preaccordo sul piano di gestione delle risorse umane nello stabilimento. Sentiamo il servizio. Passo in avanti per la proroga anche per tutto il 2019 della Cassa Integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale a favore dei 260 lavoratori in organico all'Euralumina di Portovesme. Come riporta l'Ansa, infatti, è stato siglato tra l'assessorato del lavoro e la società Confindustria Sardegna Meridionale, la Filtem TGL, l'Femga Cisle, Wilket Wille, i sindacati territoriali del Sulgis Iglesiente, le rappresentanze sindacali aziendali unitarie dello stabilimento di Portovesme, il preaccordo sul piano di gestione delle risorse umane nello stabilimento. Mercoledì prossimo 28 novembre al Ministero del Lavoro a Roma è previsto il passaggio formale per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali. Nel documento, riporta ancora l'Ansa, si prevede l'applicazione di una norma della legge finanziaria 2018, varata dal Governo Gentiloni, che dispone per le imprese con una rilevanza economica strategica anche a livello regionale, la possibilità di accedere all'integrazione salariale. La misura è necessaria per la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale dietro la presentazione di un piano di gestione delle risorse umane con specifiche azioni di politiche attive in accordo con la Regione interessata. Con la riforma regionale dei servizi per l'impiego, la Regione è pronta a dar corso alla previsione di legge nazionale, ha spiegato l'assessore del lavoro Virginia Mura. Inoltre, con il programma Lavoras, ci sarebbe già a disposizione un articolato pacchetto di misure di politica attiva del lavoro da applicare appunto in favore dei lavoratori dell'Euralumina. Il piano di gestione delle risorse umane prevede la mappatura da parte dell'azienda dei profili professionali obsoleti, con l'invito ai lavoratori interessati ad utilizzare i servizi disponibili nei centri per l'impiego del territorio, l'analisi dei fabbisogni di competenze nell'industria, l'orientamento per la ricollocazione in settori alternativi di eventuali figure in esubero, un servizio finalizzato alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro, la formazione continua anche attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali ai quali l'azienda aderisce. Lasciamo la pagina del lavoro, ma restiamo comunque nell'ambito dello sviluppo del territorio. Abbiamo voluto affrontare questo argomento con uno dei sindaci più giovani d'Italia, Mauro Usai, primo cittadino di Iglesias, al quale abbiamo chiesto quale sia la sua visione di sviluppo per la provincia più povera del paese, che sembra non trovare una via d'uscita strutturale verso un miglioramento delle proprie condizioni economiche, né in ambito industriale, né in quello turistico o agroalimentare. Sentiamo dunque le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Valentina Murgia. Io credo che il ragionamento debba andare al di là della dimensione amministrativa che qualifica l'aggregazione dei soggetti locali, che compongono poi una provincia, un'unione dei comuni o qualsiasi dimensione amministrativa che si voglia attribuire. Io penso che il ragionamento si debba fare esclusivamente sul piano dello sviluppo del territorio. E quando mi chiedono che sviluppo vorresti per questo territorio, io rispondo lo sviluppo, perché non esiste una cosa che escluda l'altra. Io penso che turismo, industria, agroalimentare, ci sono dei progetti per esempio d'eccellenza che ho visto nel Basso Sulcis che stanno parlando sull'agroalimentare, sull'agricoltura di nicchia, cioè su quei prodotti che in questo momento nel mercato sono ricercati. E in questo senso mi piace pensare che diversi vettori di sviluppo possano convivere e essere compatibili l'uno con l'altro. Allora così potremmo anche ragionare fuori dei campanilismi, perché ci sarebbe ricchezza, ci sarebbe sviluppo, ci sarebbe abbassamento del tasso di disoccupazione e a quel punto anche le rivalità storiche ci sarebbero. Io personalmente ci tengo a dire che non le sento. Matteo Salvini arriva in Sardegna per un tour di due giorni sulla scia dell'hashtag tra la gente. Una serie di incontri politici con simpatizzanti e cittadini in vista delle prossime scadenze elettorali. La prima tappa è a Olbia, poi appuntamento a Nuoro e Tortoli. Venerdì 23 Salvini sarà a Villa Simius per una visita ad un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Poi a Cagliari per prender parte alle 12 alla presentazione del 34esimo congresso del Partito Sardo d'Azione nella sede del Pisdaz, dove dovrebbe annunciare il nome del candidato governatore alle regionali. Alle 13 visita Capoterra nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre e quindi un pranzo in una località limitrofa. Sono in arrivo nuove regole che disciplinano la liberalizzazione del mercato telefonico e costringono di fatto le compagnie telefoniche ad adeguare la durata dei contratti alla nuova normativa. Per saperne di più sentiamo Giancarlo Cancedda, segretario territoriale della Di Consum. Se ricordiamo bene anni fa allora il governo Bersani fece un decreto per la liberalizzazione contrattuale, cioè chiunque avesse un contratto con le varie agenzie telefoniche e televisive poteva in qualunque momento senza spiegazioni disdire il contratto senza spese. Bene, quella legge è stata un po' aggirata dagli operatori telefonici che cosa hanno fatto? Hanno messo in atto dei contratti con promozioni, promozioni biennali dove si diceva il costo del contratto telefonico è questo, però se rimani con me ti faccio uno sconto di 5-10 euro, 20% e chiaramente noi convinti di questo sconto, ottimo sconto, firmevamo il contratto biennale magari acquistando anche un telefonino a rate. Cosa succede? Che quando uno decide o decideva di scendere il contratto perché magari trovava offerte migliori o magari non era contento del servizio, la compagnia telefonica gli addebitava sistematicamente un costo di recesso altissimo, inoltre gli chiedeva immediatamente indietro tutti gli sconti acquisiti o da acquisire e se aveva una rata sul telefonino acquistato il saldo immediato. Quindi praticamente legava l'utente dicendogli non puoi andare via altrimenti i costi sono pesanti. Bene, dopo tante proteste, tanto tempo di cui si è discusso sulla situazione, la Gcom, l'Agenzia Nazionale di Verifica e Controllo sulle telecomunicazioni ha finalmente deliberato la possibilità per l'utente di scendere il contratto anche se stipulato per 24 mesi pagando le spese di scissione nella misura non superiore al canone mensile. Un'ipotesi, il canone mensile era 25-30 euro, le spese di recesso non devono superare quella cifra, non i famosi 70-80 euro. Inoltre se uno usufruiva di sconti promozionali non doveva pagare, non deve pagare tutti gli sconti usufruiti o meno ma solo una parte, possibilmente quelli residui e se pagava o paga rate per l'acquisto del telefonino non deve saldarlo immediatamente ma può continuare a pagare tranquillamente le rate pur in assenza del contratto, pur scendendo il contratto. Ecco quindi questa è stata una grossa vittoria, una grossa dimostrazione di democrazia rispetto dei consumatori perché le compagnie telefoniche ovviamente fanno i loro interessi e cercavano di bloccare le persone fidelizzandoli per 24 mesi. Quindi anche in questo caso possiamo andare via e oltre questo le compagnie sono state finalmente obbligate, condannate a restituire a tutti i consumatori la differenza della fatturazione dai 28 giorni ai 30 giorni che come ricorderete nel 2017 le compagnie telefoniche all'improvviso deciso di fatturare a 28 giorni invece di 30 con un aggravio per le famiglie, quindi una sorta di tredicesima, una quota annuale in più, sono state condannate a restituire entro il 31 dicembre 2018 la differenza dei due giorni di fatturazione in più, praticamente un canone mensile da restituire. Si può restituire in un'unica soluzione o anche a rate ma è da restituire. Quindi anche questa è una soddisfazione per noi consumatori perché riusciamo ogni tanto ad avere soddisfazione sulle richieste e sulle imposizioni fatte dalle compagnie. Ci spostiamo ad Iglesias, l'amministrazione comunale ha attivato il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina per permettere la visione e il controllo delle zone più critiche del territorio comunale in termini di viabilità e di tutela del patrimonio urbano. Sentiamo. l'amministrazione comunale di Iglesias ha attivato il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina per permettere la visione e il controllo delle zone più critiche del territorio comunale in termini di viabilità e di tutela del patrimonio urbano. La centrale operativa si trova presso il comando di polizia locale e sarà il punto di riferimento di tutte le forze dell'ordine presenti nel comune. Finalmente ci siamo, ha commentato Francesco Melis, assessore all'informatizzazione e alla polizia locale. Va dato merito al nostro ufficio informatico e alla polizia che hanno seguito con la massima attenzione l'attivazione e la messa in esercizio dell'intero sistema. Questo, ha concluso Melis, è un progetto che darà più sicurezza ai nostri cittadini e garantirà maggiori controlli da parte di tutte le forze dell'ordine. Anche questa è la dimostrazione che le sinergie dell'azione politica unite al lavoro degli uffici può dare risposte immediate. Ha commentato invece il sindaco Mauro Zai, sottolineando che si tratta solo dell'inizio. Infatti, prosegue il sindaco, abbiamo intenzione di potenziare questo servizio aumentando il numero delle telecamere con un posizionamento mirato in altre aree critiche della città. Il sistema di videosorveglianza è attualmente composto da 54 telecamere e 26 acquistate con il cofinanziamento regionale e ulteriori 28 telecamere già presenti e funzionanti che andranno a interfacciarsi sul nuovo sistema. In programma per il 24 novembre prossimo alle 10, nella sede del Consorzio Industriale di Portovesme, la conferenza programmatica provinciale del Partito Democratico. Ad introdurre i lavori sarà il segretario provinciale Daniele Reginali, saranno presenti rappresentanti delle forze sindacali, della giunta regionale, sindaci del territorio, imprenditori, dirigenti e iscritti con i quali sarà avviato un confronto sui temi legati alla crescita economico-sociale del suicisi iglesiente. A chiudere i lavori sarà il segretario regionale del PD Emanuele Cani. Si intitola Una scelta in comune, l'assemblea pubblica prevista per venerdì 23 novembre a San Giovanni Suergio, nel corso della quale si parlerà di donazioni e trapianti. In particolare durante l'assemblea organizzata dal comune e dall'associazione Prometeo, sarà presentato il servizio di registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti. Con lo slogan Informati, decidi e firma, anche nel comune di San Giovanni Suergio, chi richiede la carta d'identità o la rinova, può esprimere le proprie volontà sulla donazione post-mortem. Andiamo avanti con gli appuntamenti. Per sabato 1 dicembre la parrocchia San Benedetto, Chiesa Santa Lucia, promuove il convegno dal tema Famiglia, lavoro, un'alleanza per il futuro. Si inizierà alle 18.30 con la Santa Messa Solenne presiduta da Monsignor Paul Tighe, vescovo titolare di Drivasto, segretario del Pontificio Consiglio della Cultura, il quale relazionerà anche in merito al tema oggetto del convegno. A seguire il dibattito aperto ai presenti. Il Lions Club di Carboni, anche quest'anno, presenta un'iniziativa che rientra nell'ambito del piacere della solidarietà. Insieme alla compagnia teatrale di Cortoghiana, invita tutti a partecipare alla comedia dialetale Un Ubisu, un sogno. Scritta e diretta da Gianpaolo Vaccargiu, in programma per sabato 8 dicembre al Teatro Centrale di Piazza Roma. Il costo del biglietto è di 10 euro e l'intero incasso della serata sarà devoluto all'associazione sportiva dilettantistica Stella Speciale Unlus. Per maggiori informazioni è possibile contattare Sergio Ezzi al numero 335-70-74647. Il nostro telegiornale è concluso. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e a Noas in Curzu con Enrico Puzzolu. Questa sera invece alle 21 vi ricordo l'appuntamento con a tutto campo curato da Giancarlo Cancella. Ancora grazie per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento con il TG40 per le prossime edizioni. Arrivederci.